ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchikei gamer che vi parla e siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2 in una nuova guida come potete vedere con il nostro bel ferito e adesso vi mostrerò cosa voglio farvi vedere avete presente le missioni esperto queste sferette viola che ci sono state presentate anche nella demo bene io mi sono portato avanti e vorrei farvi vedere dove trovare le altre allora le prime tre si trovano qui quelle sono le prime due lì c'è la terza la quarta la trovate esattamente qui in modo solo le prime quattro e qui c'è questa ok? anche con le prime quattro ora l'altra andiamo a cercarla non ricordo mai dov'è ecco la lì in teoria dovrebbero occupare tutto il giro del giro e questo ancora non lo svolta e ci abbiamo Tarlet come avversario onda letale e qui c'è la compensa direi di farla online eeeh facciamo mentre con l'altro personaggio sto cercando comunque le e allora facciamo che creiamo la stanza è un po' gioca fuori dicevo che eeeh sto è il tiranno galassico se fanno partire la missione fanno un favore però è il tiranno è il tiranno Doveva tutto arrivato i personaggi, era più bello. Grazie a tutti. 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 You can do a lot better than that. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.